Esattamente al giro di boa della campagna acquisto invernale è il Fasano, la compagina ad aver operato maggiormente in sede di mercato. Sette nuovi arrivi e dieci partenze, con annessi, un avvicendamento in panchina e l'attuale ultimo posto in classifica, testimoniano come il progetto tecnico ideato in estate non abbia dato i suoi frutti. Sei argentini, per ultimi Urruti e Nillar e un difensore bosniaco, Omerovic, per tentare la risalita. Gravina alla ricerca di grandi colpi, Giuseppe Tarantino per la retroguardia e Simone Danna per l'attacco, sono i nomi caldi sul tacquino del DS Maule, ma restano da convincere rispettivamente Biscegli e Lecco. L'altra murgiana, la team Altamura, blinda il capitano Mirko Guadalupi che resterebbe Ancorosso fino a fine stagione. Discorso analogo a Molfetta per Davide Ventura, il capocannoniere dello scorso torneo di eccellenza, continuerà a militare nel gruppo di Bartoli.